Senti, hai parlato dell'arte, della musica, dei giornali, parliamo di parole sempre. Allora ti chiedo ai social, qual è il tuo rapporto con i social? Io ce l'ho molto controverso e volevo sentire te su questo. Ma è giusto avere un rapporto di età mostro. Critico. Sì, ci sta. Critico è positivo sempre. Con i social ho un rapporto abbastanza buono, nel senso che mi divertono molto e li trovo dei canali espressivi interessanti e soprattutto sono un modo per essere in contatto con il mio pubblico e sapere come stanno, insomma, è importante per me. Poi ovviamente non nego che ogni tanto è molto difficile leggere le cose. Poi inconsapevolmente ogni tanto scateno delle shitstorm senza volerlo, tipo quella cosa sulla tampon tax è stata la settimana peggiore della mia vita. ho ricevuto di quegli insulti, sono andata dallo psicologo piangendo, ho detto aiutami perché io sto impazzendo, perché i commenti erano talmente aggressivi che io stavo dubitando di me stessa, non so come dire. Quindi i social sono molto belli ma sono anche molto pericolosi e quindi secondo me è giusto sempre usarli per essere estremamente propositivi, usarli per partecipare effettivamente ai dibattiti. Cioè è bello perché ti puoi veramente scambiare delle opinioni, però bisogna sempre ricordarsi di essere estremamente educati, ecco, rispettosi. Qua ci sono tanti ragazzi molto giovani che usano i social, tu parlavi dei commenti che ti hanno mandato in crisi, nera, sei attraverso psicologo, lo capisco, è una cosa che ti devasta leggere questi commenti. Ecco, però io credo che veramente questi siano dei temi che diventeranno fondamentali, già lo sono oggi, ma diventeranno fondamentali nella società dei prossimi anni, perché quei commenti che a te hanno fatto andare dallo psicologo e che mandano sull'orlo di una crisi di nervi un sacco di persone, beh, dovremmo averci molto più a che fare, sempre più a che fare. Allora, come ci si difende da questo odio gratuito che il mondo del virtuale enfatizza proprio perché non c'è empatia, non c'è empatia tra le persone, quindi io posso scrivere qualunque cosa e non mi rendo conto di quanto ferisco. Ecco, come ci si difende? Tu che, voglio dire, ne sei già stata sommersa e te la sei cavata alla grande. Ho la mia scienza in quotidiana, sì. Ecco. Hai usato una parola bellissima, fondamentale, e ti ringrazio per averla detta, che dovrebbe essere stampata, che è empatia. Io noto che quando succede qualcosa, qualsiasi cosa, qualsiasi insomma polemica del giorno, diciamo così, non polemica del giorno perché la voglio sminuire, ma perché ogni giorno c'è un dibattito quasi, spesso leggo frasi tipo, esempio, gli uomini non possono parlare di certe cose perché non sono donne, non hanno le cose che hanno le donne, non possono capire. Il problema qual è? Che noi non ci fidiamo più gli uni degli altri, quindi non riusciamo manco a concepire che qualcuno abbia empatia per qualcosa che non conosce. Cioè, è difficilissimo trovare persone che empatizzano con qualcosa che non conoscono. Ed è per questo che diventa difficilissimo portare avanti delle lotte, perché le persone pensano che le lotte le debbano condurre, insomma, solo le persone che sono interessate a quella cosa lì. E invece le lotte, le rivoluzioni, si attuano e sono efficaci quando anche persone che non sono minimamente toccate a quella cosa, tipo appunto la tampon tax, collaborano affinché la comunità sia, cioè, collaborano affinché le persone, anche se non gliene frega niente loro perché non devono comprare assorbenti, comunque, insomma, sostengono una cosa. E quindi è importantissimo empatizzare anche per ciò che non conosciamo. Magari non possiamo capire le cose, quindi accetteremo di ascoltare, magari di limitarci a non fare teorie filosofiche sulle cose che non conosciamo, però empatizzare nei confronti delle cose, nei confronti delle battaglie, delle comunità, delle minoranze, nei confronti delle donne, è fondamentale, se no non ne usciremo mai. Se io e te portiamo avanti la nostra battaglia e nessun uomo ci sostiene in questa cosa, è super tosta. Quindi dobbiamo empatizzare di più. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.